Aula magna del polo scolastico gremita e migliaia di accessi per la diretta streaming su Facebook per il primo degli appuntamenti il sindaco incontra la cittadinanza voluto dall'amministrazione comunale di Camerino per tracciare un bilancio sull'emergenza post-sisma. Tantissime le domande poste dai cittadini che hanno riguardato principalmente la questione delle messe in sicurezza nel centro storico e della ricostruzione di quegli edifici considerati strategici per il futuro della città come scuole, caserme e carcere. Un momento di confronto e di chiarezza quindi a distanza di 15 mesi dal terremoto dell'ottobre 2016. La gente ha il diritto di sapere e se serve anche di sfogarsi hanno affermato gli amministratori della città ducale. Il momento è tremendo per tutti e la condivisione piena è forse l'unico modo per superarlo. Una scelta che alla fine sembra aver pagato visto che insieme a qualche critica non sono mancati gli applausi e che tutti coloro che hanno partecipato hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa, tanto che l'appuntamento sarà ripetuto anche nel mese di febbraio.